Come aggiornare il BIOS del notebook quando Windows 11 non si avvia? Il BIOS o Basic Input Output System, sistema di input-output di base, è il software del processore con core integrato responsabile dell'avvio del sistema. Se il PC Notebook HP con Windows 11 non si avvia correttamente e dispone di un menu di avvio Unified Extensible Firmware Interface, interfaccia di firmware estensibile unificata, o UEFI in breve, l'aggiornamento del BIOS potrebbe risolvere il problema. Per aggiornare il BIOS del computer, raccogliere il codice prodotto, solitamente impresso sul fondo del notebook, un computer funzionante dotato di una connessione internet, e una unità USB vuota. Scaricare e installare l'aggiornamento del BIOS e salvarlo nell'unità USB. Collegare l'unità USB al computer funzionante, quindi accedere alla pagina download di software e driver HP all'indirizzo support.hp.com slash drivers. Immettere il codice prodotto e il sistema operativo del notebook che si sta aggiornando. Selezionare il sistema operativo e la versione. Selezionare tutti i driver. Viene visualizzato un elenco di aggiornamenti disponibili. Selezionare BIOS. Se non sono elencate categorie di BIOS, attualmente non è disponibile alcun aggiornamento. Fare clic sull'aggiornamento più recente per visualizzare una panoramica e una descrizione dell'aggiornamento. Annotare la versione dell'aggiornamento del BIOS. È importante che l'aggiornamento sia più recente della versione corrente del BIOS in esecuzione sul notebook. Più avanti, in questo video, verrà descritto come trovare la versione corrente del BIOS sul notebook. Fare clic su Scarica. E fare clic su Apri file. Si apre la procedura guidata Install Shield. Fare clic su Avanti. Accettare i termini e le condizioni per procedere e fare clic su Avanti. Quando viene richiesto un percorso in cui salvare il file di aggiornamento, fare clic su Cambia. Selezionare l'unità USB nel percorso di salvataggio. Dopo aver salvato i file, si apre l'utilità HP System BIOS Update Utility. Fare clic su Avanti. Selezionare Create recovery USB flash drive. Crea unità flash USB di ripristino. Fare clic su Avanti. Selezionare l'unità USB dall'elenco. Fare clic su Avanti. Attendere che i file del BIOS vengano copiati nell'unità USB. Viene visualizzato il messaggio Recovery flash drive was created successfully. L'unità flash di ripristino è stata creata correttamente. Fare clic su Fine. Per chiudere l'utilità BIOS Update Utility, fare clic su Annulla. L'unità USB di ripristino del BIOS è ora pronta per l'uso. Trovare il numero ID della scheda di sistema del notebook per consentire l'aggiornamento del BIOS. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il notebook e tenere premuto immediatamente il tasto F10 per accedere al menu di configurazione del BIOS. Nella scheda Main, principale, individuare il numero ID della scheda di sistema e annotarlo. Per completare l'aggiornamento del BIOS sarà necessario questo numero in seguito. Premere F10, quindi premere Invio per uscire dal menu del BIOS. Tenere premuto immediatamente il tasto ESC fino a quando non viene visualizzato il menu di avvio. Installare l'aggiornamento del BIOS sul notebook. Collegare il caricabatteria al notebook e non scollegarlo fino al completamento dell'aggiornamento. Premere il tasto F2 per aprire il menu UEFI. Collegare l'unità USB con l'aggiornamento del BIOS al notebook. Se richiesto, selezionare la lingua. Nel menu UEFI, selezionare Firmware Management, gestione firmware, o BIOS Management, gestione BIOS. Fare clic su BIOS Update, aggiornamento BIOS. La schermata di gestione del BIOS mostra la versione attuale del BIOS. Fare clic su Select BIOS Image to Apply. Seleziona Immagine BIOS da applicare. Quindi selezionare HP Tools USB Drive. Strumenti HP Unità USB. Fare clic su ULIT Packard. Quindi fare clic su BIOS. Il file è archiviato in una cartella denominata BIOS Update, aggiornamento BIOS, current, corrente, new, nuova, o previous, precedente. Fare clic su ciascuna cartella fino a individuare i file di aggiornamento del BIOS. Fare clic su Back, indietro, per tornare alla schermata precedente. Selezionare il file di aggiornamento del BIOS che corrisponde al numero ID della scheda di sistema. Si tratta di un numero a cinque cifre che inizia con uno zero. Fare clic sul file di aggiornamento del BIOS. Si è richiesto immettere la password dell'amministratore. Premere quindi Invio. Attendere il completamento dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento del BIOS viene eseguito correttamente, viene visualizzata una schermata di completamento. Il computer si riavvia dopo 30 secondi. Non spegnere il computer durante il riavvio. L'aggiornamento del BIOS è stato completato e si torna alla schermata di accesso di Windows 11. Se l'aggiornamento del BIOS non riesce, viene visualizzata una schermata di errore e il sistema si riavvia dopo 30 secondi. Non spegnere il computer durante il riavvio del sistema. Le informazioni sull'errore vengono visualizzate se disponibili. Se il BIOS è stato scritto, il sistema ripristinerà il BIOS dopo il riavvio. Fare clic sulla scheda Playlist di YouTube per visualizzare i video di HP in altre lingue. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. Grazie.